Oh buonasera, siamo qui accampati sui nostri mezzini, sui nostri mezziniere la musica qua si vede tutto il campeggio qui vediamo anche il lago ghiacciato, lo vediamo bene, guarda che bello la temperatura sta scendendo di brutto e adesso qui vediamo questi due qua che stanno elaborando quella cosa marzo famiglia qui invece stiamo scaldando il vin brunet se ci riusciamo se si scalda facciamo vedere qui il vin brunet vediamo se sia spento, come penso no, si sta scaldando ancora ottimo giriamo l'immagine ritorniamo allo video ciao 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 ciao